La tua passione, la tua scelta del campo cuota numero 14, un mila di Semi d'atta numero 15, un mila di Semi d'atta numero 15, un mila di Semi d'atta numero 15, un mila di Semi d'atta numero 27 Armagone, numero 4 Romagna Dalli, numero 42 Matriano Sianato, numero 61 Petro Cimili, numero 18 Matriano Sessori, numero 18. Grazie a tutti.